Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Gaming Tonight Io sono Soul e sono qui per carità, no? Sono qui perché mi hanno chiesto di portare la profile del Best Tech Exorcister nel canale E nulla, si fa la profile Allora, partiamo da Trellis Trellis se controlliamo un Exorcister si specialano Se controlliamo stella in risoluzione guadagniamo 800 Tutte le Exorcister hanno un altro effetto in comune Che se una carta nei cimiteri lascia il cimitero a causa dell'effetto di una carta del nostro avversario Possiamo evocare Exorcister utilizzando il monstro Exorcister Quindi esempio, stella, una carta dell'oppo viene bandita dal cimitero Possiamo attivare l'effetto e ci cadiamo sopra l'Exorcister Questo è molto importante perché è ciò che rende forte il mazzo Comunque Trellis fondamentali Fanno da Extender Come Stella Stella dice che possiamo evocare specialmente un Exorcister da mano E se controlliamo l'ex in risoluzione guadagniamo 800 life points Poi altri nomi abbiamo le tre Sofia Sofia dice che se controlliamo un altro nostro Exorcister possiamo pescare una carta Quindi è molto comodo per andare in plus E se in risoluzione controlliamo Irene guadagniamo 800 life points Come ultima carta, mostro di archetipo, abbiamo due Irene Irene dice che possiamo mettere una carta Exorcister alla nostra mano in fondo al mazzo e peschiamo una carta Se in risoluzione controlliamo Sofia guadagniamo 800 life points Come si può notare questa è un po' la scarsetta di tutte le altre Exorcister Però vabbè Comunque è un nome, quindi è importante avere nomi E spesso serve la seconda Comunque è comoda da avere A volte l'effetto torna utile Perché abbiamo, non so, troppi nomi in mono Mono Arment Arment è un po' un bicchetto Perché se non abbiamo Exorcister è letteralmente una carta morta A differenza di qualsiasi altra carta di archetipo Comunque è utile soprattutto in certi matchup Perché dice paghe 800 di costo Perché tiene una Exorcister E con quel mostro fa Xyz Però la possiamo attivare solamente durante il turno del nostro avversario A meno che non controlli un mostro evocato specialmente dal cimitero In quel caso lo attiviamo anche nel nostro turno Questo effetto non teneremo mai nella vita Lo attiveremo sempre nel turno del loppo Però è molto comodo da avere almeno in mono Carta più forte del mazzo 3 bucks Magia rapida dice durante la main Paghiamo 800 di costo Aggiungiamo una carta Exorcister da mazzo A parte di se stessa Se aggiungiamo un mostro Exorcister E quel mostro ha nel proprio nome Nel proprio nome e nel proprio testo Un mostro Exorcister che abbiamo sul terreno nel cimitero Lo possiamo evocare specialmente Quindi fa anche da extender E da interruzione perché è una magia rapida Quindi volendola possiamo attivare nel turno del loppo E specialiamo un Exorcister nel turno del loppo E già qui inizia a intravedersi la strategia del mazzo Che alla fine è quella di evocare specialmente Ino e le nostre sorelle nel turno del loppo Per poi calare gli Xyz Da monocarta Vadis ci permette di specialare Due mostri Exorcister da mazzo Pagando 300 life points Però i mostri Exorcister devono essere copiati Questa cosa vuol dire? Vuol dire che se vogliamo evocare specialmente Sofia da mazzo Possiamo evocare solamente insieme a Irene O viceversa Se vogliamo evocare specialmente Stella da mazzo La possiamo evocare solo insieme a Delis O viceversa Per cui sì È un po' una limitazione di questa carta Ha in più cilocchi nel Exorcister Ma ce ne frega poco Perché di solito l'attiveremo nel turno del loppo Però è una limitazione un po' necessaria Altrimenti si evocherebbe nel proprio turno Perché può capitare di evocare nel proprio turno Se si evocassero Tipo Sofia insieme a Stella Sarebbe sproccatissima come combo Extender non di archetipo Boom 3 Zoroa Ben già in Magistus È molto forte Zoroa più che altri per sé è molto forte Dice Possiamo targettare un Magistus Targetteremo se stesso Equipaggiamo da extra Un mostro Magistus E quando viene equipaggiato Possiamo evocare specialmente O da mano Da cimitero Uno spellcaster A livello 4 Noi evocheremo Praticamente sempre Le sorelle Non può evocare se stesso Quindi evocheremo Letteralmente Sempre Le sorelle Possiamo attivare Ogni effetto Solo una volta per più È molto molto forte È molto molto buono Permette di dare Recovery al mazzo Che non ha Dopo quando arriveremo All'extra Che magari Si capirà meglio Comunque evocare specialmente Da mano E da cimitero È fortissimo Poi altri extender Gioco altri tre extender Che sono Gigabyte Nefarius Fanno praticamente La stessa cosa Se controlliamo Uno spellcaster Si specialano da mano Sono dei livelli 4 Quindi ci permettono Di fare le nostre giocate Con gli Xyz In più Effetto carino Di giga È che se viene distrutto Dall'effetto di una carta O anche se viene distrutto In generale Possiamo evocare specialmente Nefarius Da noz Per cui È carino Kagetto Kage Perché si Perché In Giappone Non esiste l'H Cioè Non esiste l'H Ma non esiste Il K Il G Quindi Non l'hanno messa in italiano Perché Perché sono scemi No Mi dissocio Se viene evocato Normalmente un mostro Vello 4 Si speciala Quindi è un extender Nulla da dire Poi Entra Pagogo Gioco tre Ash Tre Ogre Tre Bell Tre Droll Non le starò a spiegare Altrimenti sto qui Mezzora Però le reputo Ottime in questo formato Poi avere 12 Entrap è fantastico È molto molto divertente Soprattutto per il nostro avversario Poi altre staple Perché si Sono pieno di staple Tre calici Sono fortissimi Secondo me Sono veramente tanto forti Cioè Lo tiri Negli di pie Cioè Per me È veramente forte E infine Vabbè L'ultima carta Collette Noi abbiamo paura di Ash Alla fine Perché ci nega Vadis Perché è speciale da Mazz Ci nega Pax Quindi Collette È fantastica Passiamo All'Extra Di Extra Abbiamo Quasi tutti i nomi Perché sono fondamentali Dato che ne useremo Un sacco di Exis Di Extra Fondamentale Tremica Tremica cosa dice Che non può essere distrutta In battaglia Dai mostri evocati Da cimitero Non è molto rilevante Possiamo Staccare un materiale Aggiungiamo Una magia trappola Da mazzo E ha un altro effetto Che dice Nel turno in cui viene evocata Si viene evocata Utilizzando Un mostro Exorcister Effetto rapido Possiamo scegliere Come versaglio Una carta controllata O nel cimitero Del nostro avversario La bandiamo È tanto tanto forte Poi tutti i mostri Exorcister Lo dico subito Si evocano Con materiali generici Cioè lei vuole Solo due mostri Avello 4 E anche tutte le altre Per cui Molto comoda Questa cosa Poi abbiamo Tre Caspital Tre Caspital Ha la stessa protezione Dai mostri evocati Da grave Di Mika E se viene evocata Exis Nel turno in cui viene evocata Si viene evocata utilizzando Un mostro Exorcister Effetto Nessun giocatore Fino alla fine del turno Può evocare specialmente I mostri Dai cemiteri È un flat gate In una carta È veramente ottima Sarò sincero Di solito Non se ne calano mai Più di due Però in match up specifici Come Sky Striker Serve la terza Perché si bloccare raie Norme come cosa In più possiamo Vabbè Stacchiamo un materiale E aggiungiamo un mostro Exorcister Da mazzo Quindi Si ci dà anche eventuali Ripartenze È molto buono Tre Aso Volendo se ne può Cattare una Però due servono Aso dice che Non può essere distrutta Dagli effetti Delle carte Evocate dal cimitero Quindi È ottima Contro DPA Famiglia Poi possiamo Staccare un materiale Scegliamo come versaglio Un mostro controllato Dal nostro avversario E lo facciamo tornare in mano Nel turno in cui viene evocata Si viene evocata utilizzando Un Exorcister Perfetto Nessun giocatore Può attivare gli effetti Delle carte nei cimiteri È fortissima Perché è un dweller Però è un dweller Con 2100 di attacco E che rimbalza uno È forte È tanto forte Tuisci Brin Anche qui Volendo Se ne può giocare Una sola Per il momento Nel gioco due Non ho motivo Per Cattare la seconda Lei ha la stessa protezione Dei mostri evocati Dal cimitero Di Asofier E Un effetto Che dice che Possiamo staccare un materiale E tutti i mostri Exist Fino alla fine del turno Godagnano 800 di attacco Questa cosa È molto importante Perché ci permette Di di cappare E in più Se Nel turno in cui viene evocata Se viene evocata Sempre utilizzando un mostro Exorcister Effetto rapido Possiamo scegliere come bersaglio Un mostro sul terreno E neghiamo l'effetto È un'impermanenza Praticamente È buono Come effetto Non è il migliore Dato che abbiamo letteralmente Dei flat gate Però È molto molto buono Poi Engine Magistus Gioco Un Artemis Un Ninaruru E Una Riliona Artemis Ci permette di Aggiungere da mazzo Un mostro Magistus Quindi ci aggiungeremo Un altro Zorua E così avremo la ripartenza Ed è fortissima Come cosa Ninaruru Fa da Spelltrap removal Perché Quando è nella zona Spelltrap Possiamo spaccare Un Magistus Nella zona Spelltrap E Una carta dell'oppo Quindi Fa da MST Sostanzialmente Ma è molto molto forte E' vero Un MST di extra E Riliona Riliona è un po' Meno utile Però voleva avere Comunque il terzo Magistus E un'altra utility Lei dice che Fintando che Nella zona Magia e Trappole Possiamo scegliere Con il bersaglio Un mostro Controllato Dal nostro avversario E neghiamo i suoi effetti Quindi comunque Buona E infine Abbiamo Zeus Zeus è Zeus Non lo sto a spiegare Il side è bellissimo E' Una delle cose Più tossiche Che abbiamo visto Pancra Pancra A volte Spacca a bordo Da solo 3 shifter Noi non usiamo Il cimitero Il nostro avversario Si Noi no Tiriamo shifter Troppo di side Perché Flow è un problema E me lo trovo Piuttosto spesso Inoltre Non è il massimo Da attivare Il nostro turno Preferisco Averlo di side Sostanzialmente E' una carta Che bisogna avere Perché è fortissima Però Di me Non mi convince Tanto Sarò sincero In questo mazzo Nello specifico Perché comunque Non ci dà fastidio Che il nostro avversario Usi il cimitero Anzi A volte ci fa classare Però in certi Match up serve Perché ci dà Veramente una mano Per cui Decide Decide il gioco Tremina Anche questa Carta molto divertente Tirimina Ti pari da Entrap Principalmente Però comunque Loppo La nega La nega Perché noi tiriamo Zeus E facciamo Bordo wipe Quindi E' enorme Duster E Duster Servono gli spell Trap removal Tre cosmic Sono il mio spell Trap removal Preferito E sono ottimi Anche in match up Che non sono Necessariamente Control Reboot Se ci troviamo Contro un control In questo caso E' molto forte Perché fare Reboot Zeus E' fortissimo Parlo molto di Zeus Sì perché Quando abbiamo Quando andiamo Secondi E' una Se non l'unica Giocata che abbiamo Alla fine Quando andiamo Primi Invece Se andiamo Primi Sapete già Che Zeus Non lo toccherete Mai Poi Lascio Sempre Due o tre slot Per il going first Qui ho due judgment Judgment Se provavano A buttarvi Sperate Trap removal Fai judgment In generale Un'ottima interruzione Per cui Forti E macrocosmo C'è E' un flat gate Fortissimo Non c'è motivo Per non giocare Quando lo flippi A volte Vince veramente Da solo Poi dipende Da in match up Per la lista E' tutto Lo reputo Un buon mazzo Non è ancora A livello da rogue Sinceramente Finché non esce Almeno magnifica Quando uscirà Magnifica Il mazzo Cambia Drasticamente E poi Quando usciranno Ancora i supporti Ancora successivi Quindi Ma alfa E la nuova trappola Il mazzo Cambia un bel po' E lì diventa Un bel rogue Un rogue Serio Ora come ora Non è a quei livelli Però è molto Molto divertente A me piace Non so Se vale la pena Buildarlo Sinceramente E' che io Volevo buildarmelo Poi sono usciti I supporti Ho detto Devo Buildarmelo E nulla L'app Per La profile È tutto Ringrazio Vergence E soprattutto Andate Maledizione Andate nel server Discord Fanno tornai Gratuiti Oh E nulla Ringrazio anche Il mio team Grit team Best team E bye O đấy E Autore dei sorrisi